A proposito di sport, mi sembrava giusto parlarne oggi, vista la bellissima domenica, non ovviamente per tutti, però per qualcuno sì, per il sottoscritto sì, perché non so per Davide che ringrazio della nostra redazione. Davide Di Castro, ciao, buongiorno Davide, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben trovati, grazie dell'invito alla partecipazione chiaramente quest'oggi. Beh, chiaramente qui a Roma viviamo su un'altalena di emozioni contrastanti, c'è la Roma che esulta e la Lazio che piange dopo i risultati di questo fine settimana. Sono tante le polemiche in atto, chiaramente qualcuno ha addirittura sussurrato l'opportunità di vedere un Sarri sollevato dall'incarico dalla panchina della Lazio, fino a qualche tempo fa, diciamo così, sui carboni ardenti, oggi è un po' il re della capitale, dopo aver riportato i giallorossi appunto al ridosso della zona Champions. Oggi Lotito ha smentito le notizie ufficialmente attraverso le pagine del messaggero, anzi ha fatto sapere alla squadra che il tecnico è intoccabile. Però io vorrei porre l'accento in questo fine settimana di sport su due sport tra virgolette minori, ok? Perché come accennavi tu all'inizio della trasmissione, la squadra azzurra di tennis ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni. Ed è un vero e proprio evento, pensate che l'Italia con questo successo diventa l'undicesima nazione con almeno due titoli nella storia di questa manifestazione. E lo ha fatto contro l'Australia in finale, che pensate che di titoli ne ha ben 28. Quindi non si tratta di un successo da catalogare come attendibile, anzi tutt'altro. Grande attenzione è stata data ovviamente a Sinner, che è il fuoriclasse, insomma il numero uno di questa nazionale. Ma io vorrei porre l'accento anche su tutti gli altri componenti della squadra, che giovanissimi hanno sollevato un trofeo che l'ultima volta era stato sollevato niente meno che da gente come Panatta e Bertolucci. Quindi insomma una grande domenica di tennis e questo secondo me porterà anche ad una nuova onda di passione per questo sport, che ultimamente era stato un po' soppiantato anche dal padel. Uno sport simile per certi aspetti, ma chi pratica il padel sa che in realtà è molto diverso. Però è uno sport, il tennis, che un tempo veniva considerato nobile, un po' come il golf, come l'equitazione, ma che sta tornando in auge anche grazie ai successi di questi ragazzi terribili di Volandri. Un ultimo applauso lo vogliamo fare invece per la MotoGP, per il grande successo di Francesco Bagnaia, che è di nuovo campione del mondo e non è roba da poco, anche perché gli avversari erano davvero molto molto forti. Ecco, credo che questo sia un po' il sunto di un fine settimana emozionante per chi ha vissuto in televisione e chi l'ha vissuto magari invece dal vivo lo sport e chi ha vissuto in televisione chiaramente non sapeva più che canale mettere, perché ovunque c'era un evento imperdibile. Quindi insomma abbiamo fatto un po' tutti quanti zapping, credo. Grazie David!